Dal diritto allo studio alla didattica, dall'edilizia all'educazione sessuale, sono i punti contenuti nel manifesto della scuola pubblica presentato dall'Unione degli studenti al ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. L'Unione degli studenti punta l'indice sulle carenze strutturali, dalle scuole pericolanti ai trasporti affollati e insufficienti, al diritto allo studio negato. Pretendiamo una scuola diversa, dicono, inclusiva, ecologica, che non lascia indietro nessuno, per questo il 19 novembre saremo in piazza con uno sciopero nazionale.